Ogni volta che entro in un aeroporto, mi pongo sempre la stessa domanda. Ma l'aeroporto come fa a coprire tutti i costi? Perché non è economico fare quella roba lì. Cioè, costicchi, insomma. Pensiamo a Itro, costa un miliardo e mezzo. Costi fissi che tu c'hai, un miliardo e mezzo lo devi tirar fuori ogni anno. Allora, come copri i costi? E mi immagino l'aeroporto sempre come una grossa landing page. Tu da un lato hai del traffico in entrata, che sono i passeggeri, che arrivano in questa landing, in questa situazione fisica in quel caso. E l'obiettivo dell'aeroporto, oltre a offrirti quello che è l'esperienza di viaggio, è quella di convertirti, cioè tirarti fuori i più soldi possibili per coprire i costi e farci possibilmente degli utili. E allora così, impallinato su questo argomento, sono andato a spipolare su YouTube e ho trovato questo canale meraviglioso, Vandover Productions, che fa tutta una serie di approfondimenti sulle compagnie aeree, sulle low cost, sugli aeroporti e ha un bellissimo video su come gli aeroporti monetizzano, prendendo il caso di Itro, che è l'unico aeroporto privato in circolazione in Europa, non so nel mondo, forse nel mondo ce n'è qualcun altro, non lo so, ed è una bella analisi che ha un sacco di dati utili e poi su YouTube ne trovate altri, me ne sono sparati 4 o 5 di sti video, peraltro visto che il video di Vandover Productions è stato completamente copiato da altri canali, ma l'originale sono loro e meritano, quindi dategli un occhiato, hanno un sacco di dati, di ricerche, di numeri utili. Allora, quali sono queste tecniche usate dagli aeroporti per monetizzare? Parentesi importanti, i due terzi degli aeroporti nel mondo, secondo questi signori, sarebbero in perdita, per cui non guadagnano soldi, e sono pubblici, per cui non c'è magari grande attenzione alla monetizzazione, lo Stato alla fine copre i costi, però, insomma, ad oggi non è facile fare un aeroporto che poi ti porta a casa dei soldini. E un aeroporto tipicamente ha due voci interessanti per avere delle entrate. Va a chargiare, a caricare i suoi fee, i suoi importi sulle compagnie aeree. Immaginate, no, che c'è British Airways che deve andare a volare su Itro e quindi paga all'aeroporto di Itro degli importi per usare i vari servizi dell'aeroporto, quindi questo è abbastanza logico. Apro parentesi, è interessante notare come la pista sia uguale per l'aereo piccolino o l'aereo gigante di lunga percorrenza, ma l'aeroporto guadagna di più sugli aerei di grandi dimensioni e meno sugli aerei piccoli. E per questo motivo, ad esempio, Itro ha poche destinazioni dentro all'Inghilterra e paradossalmente Amsterdam, l'aeroporto di Amsterdam, ha più destinazioni per arrivare nelle varie città inglesi per questo motivo. A Itro, che è gestito privatamente e deve fare tornare i conticini, conviene di più avere tutti i voli di lunga percorrenza, con gli aerei grossi, insomma, guadagnano di più. Ma lasciamo perdere il rapporto aeroporto-compagnie aeree e pensiamo a come monetizzano noi i passeggeri. Prima considerazione, i passeggeri non sono tutti uguali. Effettivamente, pensiamoci, è molto diverso avere un passeggero in arrivo o in partenza. Quando noi arriviamo in aeroporto, tipicamente arrivi, pigli sul bagaglio, se c'hai il bagaglio, prendi e vai, perché magari anche sei di fretta, eccetera. Quando sei in partenza, invece, arrivi, devi arrivare due ore prima, un'ora e mezza prima, un'ora prima, insomma, in base al volo nazionale e internazionale, e a quel punto hai più tempo. Più tempo spendi in aeroporto, più potenzialmente puoi spendere. È come una landing page, è uguale. Cioè, se io ti porto sul mio sito e riesco a tenerti lì il più a lungo possibile, la mia probabilità di venderti qualcosa cresce drammaticamente. Altra considerazione interessante di questo video, faceva notare come l'1% di miglioramento del tuo status di relax, di tranquillità, corrisponde a una spesa maggiore dell'1.5%. Sono sempre statistiche che poi dici, beh, sono vero, non lo so, non lo so. Però, in generale, noi sappiamo che più riusciamo a metterti a tuo agio, a tranquillizzarti, e più spendi. Questo vale uguale su un sito web. Più arrivi e ti tranquillizzo con tutte le mie tecniche, i testimonial, guarda che non c'è problema, ti rimborso, hai un rischio zero. Più ti tranquillizzo, più sei rilassato e più facilmente spendi. Più sei in tensione, stressato, incasinato e meno spendi. Molto bene, a questo punto dove guadagna l'aeroporto? Primo posto in cui guadagna è il parcheggio, no? Guadagna il parcheggio. Peraltro, l'altro video carino che ho visto, cheddar. Provate ad andare a vedere cheddar video su YouTube. Ragazzo, credo, con la barba. Video carino, ben fatto. Il parcheggio, vabbè, è autoesplicativo, insomma, porta entrate all'aeroporto. Una volta che tu arrivi in aeroporto hai la fase iniziale, quindi i negozi che sono fuori, ma soprattutto dopo che hai passato i controlli, tipicamente passi in mezzo a un duty free. Duty free, peraltro, nessuno dei video lo fa notare, ma mi sembra abbastanza ovvio, è costruito con l'effetto casino. È sempre pieno di luci, è luccicante, c'è un po' di casino, i profumi, i suoni, capito? E tu sei un po' ricognonito e compri. Sei nella golden hour, no? L'ora d'oro, da quando ti sei rimesso le scarpette, le mutande del controllo che ormai ti tolgono qualunque cosa, a quel punto entri, sei pronto a comprare, sei pronto a comprare e ti accolgono con il tax free, mica tax free. Ovviamente, poi sai, risparmi davvero al duty free, comprando più puttanate possibili, perché sei ammagliato da questo momento magico, chiaramente non risparmi assolutamente niente, risparmi se non compri, ma nel momento in cui compri, sì, risparmi le tasse sugli alcolici, le sigarette, ma nell'insieme, alla fine, hai speso dei soldi che magari non li avresti spesi per comprare, fa il caso uno dei video, il solito toblerone mega gigante, a volte nei duty free trovi questi cioccolati infiniti, oppure il lollipop, il ciupa ciupa mega enorme, io ne ho comprati tre l'altro giorno, ciupa ciupa che non avrei mai comprato in vita mia, però sei lì e dici, ma compriamaci ciupa ciupa. Una segnalazione carina che ho trovato in uno di questi video, e volevo approfondirla, ditemi se vi torno, se qualcuno insomma è dentro a questo settore, ci dà conferma, è il fatto che un percorso a serpentina, perché effettivamente sono sempre a serpentina, prendete Roma, adesso quando parti per gli internazionali, è a serpentina, Gatwick è a serpentina, non è un percorso dritto, squadrato muoverti nell'aeroporto, sembrerebbe che il percorso a serpentina, tra i negozi aumenti del 60% quelle che sono le entrate, rispetto a una configurazione diversa. Immaginate peraltro anche la difficoltà di fare un aeroporto che sia ottimizzato al meglio per offrire servizio, ma anche convertire noi passeggeri in passeggeri paganti, perché se sbagli, eh cacchio, non è che puoi fare il test AB dei siti web, e dici, vabbè aspetta cambia, rimettila così, no, l'è costruito ormai è un casino, perché insomma non è affatto banale farlo ecco. L'altra segnalazione divertente, che boh, mi lascia un po' perplesso, ma ve la riporto così com'è, è che la curva sarebbe tendenzialmente subito verso sinistra, perché siccome la maggior parte delle persone sono destre, destroidi, destrorse, destriche, destrelle, a questo punto diventa più facile comprare, afferrare, quando giro verso sinistra, lo sguardo va là, e io afferro e compro, di più insomma, non lo so, non mi torno a tato però della riporto, mi sembrava un dato così curioso, divertente, dopodiché, se passi il duty free in colume, a quel punto ti tengo lì, stai lì magari due ore, un'ora e mezza, insomma, o se il volo è in ritardo, ci stai ancora di più, prima o poi dovrai mangiare, prima o poi dovrai bere la bottiglietta d'acqua, e a quel punto i ristoranti, i negozi sono lì in attesa, e ti massacrano, arrivi, spendi delle cifre pazzesche, e sono tutti super super cari, perché? Da un lato uno dice ingiustamente, perché fanno dei ricarichi pazzeschi, io vedo sui giochi, ma porca paletta, a volte compri un Lego, quando prendo i giochi per i bambini, da un aeroporto all'altro, mannaggia, costa, non so, 30% in più, 50% in più, 100% in più, senza nessuna motivazione, ecco, e quindi questo è un aspetto. Dall'altro, ricordiamoci, che i negozi, o i ristoranti, per essere in aeroporto, pagano, pagano anche salatamente la loro presenza, e per cui c'è un ricarico che in sostanza ti passano, ecco, tu paghi il ristoratore che deve pagare l'aeroporto, per cui è una situazione dove tutti devono guadagnare, e i costi vanno so. Dal punto di vista del marketing e del commercio, gli aeroporti sono un posto comunque interessante da studiare, vorrei studiarli molto di più, e anzi, se ci sono esperti di aeroporti in ascolto, mi contattino, perché mi piacerebbe fare magari degli speciali, o degli approfondimenti, per capire quali siano le dinamiche, perché tu effettivamente hai un pubblico, che una volta che entra in aeroporto, di fatto non può più uscire. Sì, puoi uscire se dici, basta, non volo più, ho scherzato, puoi in un qualche modo uscire, ma, se no, sei costretto a stare dentro lì, e una volta che ti ho dentro lì, sai, prima o poi, è vero, che tu puoi portarti la piadina da casa, e la settimana enigmistica, ma, dopo che sei lì, annoiato, le ore, e giri, e c'hai fame, prima o poi, in aeroporto, qualcosa ti vendono.